Con oltre 4 milioni di arrivi e circa 15.000 presenze, la Puglia rientra nella top 10 istat delle regioni italiane per numero di presenze complessive. I dati sono stati diffusi in occasione del TTG di Rimini. Gli arrivi sono aumentati del più 9% mentre le presenze hanno registrato un incremento del più 4% rispetto al 2023. La crescita ha interessato sia i turisti italiani che stranieri con questi ultimi che hanno evidenziato un aumento maggiore. La Puglia dimostra ancora una volta la sua attrattività. Nel 2024 i numeri continuano a essere incoraggianti, segnano sostanzialmente una crescita che in maniera particolare si è manifestata nei primi sei mesi dell'anno. Questo ci invoglia a continuare nelle politiche di promozione, nella presenza alle principali fiere internazionali e soprattutto a continuare a ragionare in termini di qualificazione dell'offerta che è la migliore risposta rispetto a una domanda così importante per la nostra regione. Per i mesi di settembre e ottobre le previsioni indicano una crescita degli arrivi del più 4% e un mantenimento dei valori dello scorso anno per le presenze. La Puglia continua a crescere al di là di ogni profeta di sventura, al di là delle notizie che ogni anno ci dicono che siamo in calo. In realtà abbiamo il più 20% di stranieri, il più 9% di arrivi e continua anche l'estate ad essere in positivo. Quindi cerchiamo di voler bene a questo settore perché è un settore che crea economia ed è il 13% del PIL della Puglia. E soprattutto cerchiamo in tutte le strade di campagna di evitare i rifiuti per le strade e in generale di accogliere i turisti come se fossero dei cittadini temporanei.